Garantire maggiore sicurezza in ambito urbano e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Il comune di Brini si punta a rafforzare il sistema di videosorveglianza attivato negli anni scorsi e ha approvato il progetto esecutivo per ampliare il numero di telecamere. I nuovi occhi elettronici saranno 28 ad altissima risoluzione con possibilità di lettura delle targhe e saranno in funzione 24 ore su 24 con gestione centralizzata nella sala controllo del comando della polizia locale. Saranno installati nei parchi cittadini il Cillaresi, il Cisarebraico e il Di Giulio e andranno a coprire anche tutte le aree ritenute sensibili stanno a quanto evidenziato nella report della polizia locale tenuto conto degli interventi delle forze dell'ordine e dei potenziali pericoli per i pedoni e gli automobilisti. Nell'elenco sono stati inseriti piazza Crispi, antistante la stazione ferroviaria Piazza Mercato, l'intersezione dei corsi principali nella zona del centro, la rotatoria in via provinciale per San Vito, in via Ciceriello e quella in via Learno e via provinciale per Lecce, così come il parcheggio dell'ospedale Perrino. In queste zone infatti sono stati registrati il maggior numero di incidenti stradali, episodi di vandalismo e violenza. La presenza delle telecamere sarà segnalata con appositi cartelli. L'importo complessivo degli interventi, così come riportato nel quadro economico approvato dall'Aggiunta, ammonta a 247 mila euro. L'amministrazione cittadina vuole inoltrare la candidatura al Ministero per ottenere il riconoscimento dei fondi POC Legalità 2014-2020 messi a disposizione per le regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia con specifico riferimento alla videosorveglianza. In caso di finanziamento e realizzazione del progetto, il Comune di Brindisi assumerà l'onere derivante dalla manutenzione e dalla gestione dell'impianto per almeno cinque anni successivi alla conclusione del progetto degli interventi. Intanto l'Aggiunta ha assunto l'impegno di inserire il progetto nel piano triennale delle opere pubbliche con riferimento all'annualità 2023-2025 mediante una variazione ad hoc.